Il primo tempo è come se fossero state due partite in una, nel senso che il primo tempo loro hanno avuto un atteggiamento un po' più attendista, quindi abbiamo fatto la partita cercando dei varchi, abbiamo creato delle buone situazioni e potevamo sfruttarne qualcuna in più perché il primo tempo abbiamo manovrato molto bene, siamo andati dentro bene e in diverse situazioni potevamo essere un po' più cinici. Poi il secondo tempo come normale che sia loro essendo sotto di un gol hanno cambiato un po' di atteggiamento, hanno cercato giustamente di aggredire di più, hanno fatto anche dei cambi per rendere la squadra più offensiva e lì siamo stati venuti fuori l'anima della squadra, siamo stati tosti, abbiamo difeso con grande ordine e con grande voglia di essere determinanti in ogni intervento in fase difensiva, con grande sacrificio da parte degli attaccanti. L'unica cosa che probabilmente per gli spazi che ci hanno lasciato il secondo tempo abbiamo sbagliato 3-4 ripartenze in superiorità numerica dove bastava fare la scelta giusta, potevamo mettere un uomo davanti alla porta. Però va bene così, come hai detto te, una prova importante, su un campo difficile, ce l'aspettavamo, sapevamo di trovare una squadra forte, una squadra che contro le grandi ha sempre fatto grandi partite, una squadra che ha anche delle qualità, quindi abbiamo saputo interpretare i vari momenti della gara e di questo bisogna dare onore ai ragazzi che hanno voluto a tutti i costi raggiungere questi tre punti.